Arriva a sostituire il coetaneo Valerio Costa nella sua prima grande avventura in Serie A2. La Viola Reggio Calabria si aggiudica alle prestazioni di uno dei giovani play più quotati d'Italia, Lorenzo Caroti. Punto fermo delle nazionali giovanili con le quali ha partecipato ai principali tornei internazionali di categoria, l'anno scorso è stato protagonista di un'ottima stagione in Serie B a Cecina. 11,3 punti di media partita per lui. Caroti è alto soltanto 1,83 m ma è dotato di un ottimo ball handling e soprattutto di qualità nella costruzione del gioco e nella visione di assist. Il giovane regista indosserà per ben tre anni la canotta nero-arancio della Viola Reggio Calabria. È il secondo playmaker, dopo il più esperto Roberto Marulli, ad arrivare alla corte di coach paternoster. Il GM Gaetano Condello pensa dunque al pacchetto di esterni e ai lunghi. Si cerca un 2-3 americano e la scelta potrebbe cadere su Chris Roberts, l'ala piccola che l'anno scorso Siena convince a giocare con la propria maglia a fronte di un pagamento in diamanti. A Reggio Calabria però non ci sono pietre preziose, soltanto un coach ambizioso che promette sudore e sangue. Francesco Creazzo per la CNews 24. Francesco Creazzo per la CNews 24.